Una roccia di grandi dimensioni si è staccata da una cima del gruppo dolomitico del Sorapis. La frana di detriti ha raggiunto la valle sottostante senza coinvolgere nessuno, come hanno accertato i vigili del fuoco. Un evento che ci ricorda che viviamo in un paese bello quanto fragile. L'Italia è un paese geologicamente giovane e da loro grafia complessa. In 302.000 chilometri quadrati di penisola, oltre 106.000 sono montagne, 125.000 colline e 70.000 pianura, meno del 25%. Un paese con un'altitudine media di 337 metri. Abbiamo 7.000 corsi d'acqua che per la maggior parte sono a carattere torrentizio, soggetti quindi a improvvisi quanto pericolosi cambi di portata. Un paese sismico, solo dal 2000 ad oggi abbiamo avuto una quarantina di scosse superiori a magnitudo 5. Poi ci sono i vulcani, sopra e sotto il livello del mare. In Italia dal 1900 al 2002 il CNR ha censito 29.000 alluvioni e 620.000 frane. Infine c'è il cemento. Negli anni 50 del 900 avevamo asfaltato il 2,7% del territorio. Nel 2018 siamo passati al 7,6%. E sempre secondo i dati ISPRA, cemento e asfalto sono in continuo aumento, 2 metri quadri al secondo. Un terreno coperto d'asfalto è detto impermeabilizzato, quindi non assorbe più acqua e aumenta il rischio idrologico, oltre a favorire l'aumento delle temperature. L'ISPRA ha affiancato la curva demografica a quella della cementificazione. Risultato? Ogni nuovo nato nel 2019 si è portato con sé 135 metri quadri di cemento.